Il Foggia per riprendere la corsa dopo la bruciante eliminazione dalla Coppa, la Juve Stavia alla ricerca della via d'uscita dal tunnel in cui si è cacciata nell'ultimo mese, in cui ha conquistato un solo punto in tre giornate. Allo Zaccheria è scontro per i play-off, Gallo ci arriva però con una rosa ridotta ai minimi termini, ancora Outback e Beretta, squalificato Friggerio fuoriuso di Pasquale e le fatiche infrasettimanali costringono il tecnico a rinunciare dall'inizio anche a Schenetti, Peralta e Peterman. Tra i titolari si rivede Auger a dirigere un'inedita mediana completata da Biarkason e Di Noia, nel cuore della retroguardia c'è spazio per Contec. Si comincia con la Juve Stavia che prova ad impensierire il Foggia, dopo due minuti Ricci controlla e calcia, ma Thiam mette in angolo. Il primo timido squillo del Foggia arriva al decimo, tentativo di Ogunzei e da fuori aria, para senza problemi barosi. Al quindicesimo, Pandolfi sciupa dall'interno dell'area piccola, su servizio di Dell'Orfanello, palla fuori. Il Foggia si rivede dopo la mezz'ora. Al trentatresimo, è Leo a provarci da fuori, palla a lato, ma non lontana dallo specchio della porta. Prima dell'intervallo, incornata centrale di Ogunzei e su servizio di Biarkason, Barosi, para senza grossi affanni. In avvio di ripresa, Pokesci manda dentro Bentivegna per l'infortunato Mignanelli, ma dopo cinque minuti è il Foggia a passare. Di Noia recupera palla nella metà campo avversaria e serve Costa, conclusione potente dell'esterno di Gallo e palla in rete per il vantaggio rosso-nero. Secondo centro in quattro giorni per lo stantuffo sinistro del Foggia, già in gol, mercoledì ad Alessandria. La Juve Stabia accusa il colpo e si rivede al sessantatresimo, doppia conclusione di Ricci e Zigoni. Passano quattro minuti e il Foggia mette l'ipoteca sul successo. Auger lavora palla nella trequarti ospite e serve Garattoni assist ad Ogunzei e che col destro fa secco Barosi e realizza il gol del 2-0. L'attaccante italo-nigeriano sale a quota sei marcature in campionato, la prima delle quali arrivò proprio nella sfida di andata contro la Juve Stabia. Al settantacinquesimo gli ospiti provano a riaprirla, ma Tiam è super sul tentativo al volo di Volpe e salva. Il Foggia cala il definitivo tris nel primo dei cinque minuti di recupero. Peterman subentrato ad un ritrovato Ger in sacca con una precisa conclusione a giro. 3-0 e gara definitivamente chiusa. Il finale serve solo ad esaltare ancora Tiam che sbarra la strada a Bentivegna e mantiene la porta inviolata. Torna a vincere il Foggia che si riprende il quarto posto e accorcia dal Pescara, terzo con cinque punti in più dei rossoneri. Per la Juve Stabia e per Pokesci è invece notte fonda.